L'esercizio apparente di 1.0, come un punto geometrico senza alcuna dimensione, succede con la percezione del matter. È preso in un'incrazione quantità di multipli e di loro intermultipli. È la forma del matter, quella che sembra come un'esercizio di un zero posato nel medio del numero positivo e del negativo 1. Da più infinito fino a meno infinito, il zero è il limite del momento. Ma questo zero diventa 1 quando i numeri positivi diventano moltiplici di 1 e i negativi diventano moltiplici. In questo modo, il zero, nel medio, diventa un'unità nel medio e moltiplici e sotto moltiplici di queste uniti. Quando anche l'unità della massa è compilata, due anni fa, nel ciclo immunitario di 10 uniti, tutti i massi positivi assumono 10 multipli progressivi, diventano più e più più in attrazione al centro apparente, e tutti i massi negativi assumono 10 progressivi, diventano più e più in attrazione al centro apparente. questa percepzione di moltiplici e sotto moltiplici succede nell'esercizio, perché nel tempo l'antimatero è sotto il zero e, senza capire alcun cittadino, non appena. In questo modo, l'amore e l'antimatero sono il sistema reale per attribuire ogni scala della scala all'unità, tra l'inversa scala della piccola. la scala dei sottotitoli e la scala dell'unità di un'esercizio, in cui l'amore di un'esercizio, nel campo di un'esercizio, e in cui l'amore di un'esercizio, tra l'amore di un'esercizio, non è zero. È la ragione per cui nessuno sembra essere senza alcuna importanza in questo mondo, in cui l'amore di un'esercizio, veramente ha questa importanza, e viceversa. Qualcuno in questo mondo sembra un grande uomo, è veramente solo quello piccolo uomo su cui basa l'amore di un'esercizio di un'esercizio. È la ragione di un'esercizio di Gesù Cristo. Il fu il primo a dire che i primi sono i ultimi e viceversa. Il fu il primo a rivelare che il nostro mondo è un mondo della contraddizione. Il fu il primo a dire che Gesù Cristo ha detto di essere il suo signo della contraddizione. Il fu il primo che la guerra era suo contributo. Il fu il primo a dire 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 che giù è che è è vero 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 E così la contraddizione di tutto è l'unica dimensione che annullerà ogni opposizione rivela il dominio dell'absoluto e non della dimensione relativa.